Allora, un be' jazz, ascolta una cosa. Io voglio veramente suonare con te. Cioè, mi farebbe veramente piacere, però cerchiamo di trovare un punto di incontro. Ma scherzi, ma anch'io, ma ci mancherebbe. Senti, facciamo una cosa che conosciamo tutti e due, un blues. Facciamo un blues. Oh, è una buona idea. Dai, vai, vai che io improvviso, in do, vai, 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 vai. Beh? Oh, questo ti sembrava un blues? Oh, dico, chiedo. Perché? È un blues in do. Ho fatto un blues in do. Che ho fatto di male? È incompatibilità di carattere il nostro. Cioè, proprio non... Non...